Un esagitato brandisce un grosso coltello e al termine di un'azione convulsa un agente di polizia gli spara le gambe per interrompere la spirale di violenza. Quanto accoduto nei giorni scorsi nei pressi della stazione Termini ha riportato l'attenzione sulla mancanza di armi non letali in dotazione alle forze di polizia. Dal 2014 si parla del taser, chiamato anche pistola elettrica, prove, tentativi, consulti, commissioni parlamentari e poi un nulla di fatto. Il primo strumento o arma di ogni operatore di polizia è la parola, ma quando questa diventa inefficace dobbiamo essere equipaggiati con un armamento atti a contrastare l'evento criminoso. Il taser sarebbe stata l'arma più utile per fermare e bloccare la persona senza dover utilizzare la pistola. I propri termini ci insegna che se l'operatore avesse utilizzato un taser la persona non sarebbe stata attinta da un colpo 9 per 21 a una gamba, ma diciamo che con un piccolo, tra virgolette, shock sarebbe terminata l'azione. Questo episodio, secondo noi, c'erano i presupposti da parte del collega che è intervenuto di interrompere questa azione violenta e potenzialmente letale e quindi l'intervento per noi rientra in quello che è l'uso legittimo delle armi. Quei poliziotti non avevano una protezione, anche un giubbotto antitaglio, non erano provvisti. Non avevano altra soluzione e quindi attendiamo questa pistola elettrica da anni. Siamo arrivati qualche anno fa, nel 2018, addirittura alla prova. Poi, inspiegabilmente, forse per motivi burocratici o tecnici, ci è stato ritirato. Se ci sono abusi è giusto che il poliziotto venga punito, ma se l'utilizzo è legittimo, perché noi dobbiamo attendere anni per avere una dotazione che ci possa garantire la nostra incolumità e l'incolumità dei cittadini? Da ottobre, anche in Italia, le forze di polizia saranno dotate di taser e bodycam. Lo ha annunciato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a un'interrogazione parlamentare sul caso della stazione Termini. Gli operatori di pubblica sicurezza si augurano che stavolta non ci si fermi gli annunci.